allora ciao ragazzi buonasera ciao a voi a tutti come promesso oggi inizieremo una sessione di zumba esercizi facili e alla portata di tutti quanti quindi spiegherò prima un po di passi e poi la coreografia e faremo un po di zumba come sapete zumba e ballo e faremo questa fusione che voi già sapete allora iniziamo subito con i passi sono quattro aperture destra e sinistra noi lavoreremo a specchio quindi io lavorerò a specchio a sinistra e poi normalmente è sulla destra quindi andiamo avanti e 1 2 3 e 4 chiusura ora ci sarà in verticale uguale e 5 e 6 e 7 e 8 di nuovo 1 2 3 e 4 vai e 5 e 6 e 7 e 8 di chiusura ci siamo a questo punto apriamo 1 2 3 4 e giù e 6 e 7 e 7 e 6 e 7 e 1 2 3 e 4 5 6 e 7 e dondolo dondolo piedi uniti e ta 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 e vai e c 6 7 8 Una passeggiata e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di nuovo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci siamo? Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, interno coscia. C, 6, 7, 8. Contracco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rinizio tutto da capo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok ragazzi, questi sono i passaggi più salienti e a breve ci sarà pure la coreografia.